Fiumicino, a Cilia e anche il centro di Ostia, in questi giorni il litorale vive una curiosa invasione di farfalle. Fra i cittadini ci sono più punti interrogativi che fastidi. Avete fatto caso che Ostia in questi giorni, anche il centro qui, è pieno di farfalline? Sì, ecco, stanno proprio qua, sì sì. E sono animali che non danno fastidi. Sulla provenienza delle farfalle le teorie sono varie, e non tutti comunque sono a proprio agio davanti a quello svolazzamento decisamente anomalo. A lei danno fastidio? A me sì, perché sbattono pure sul viso. Queste sono farfalle le scure anche. Però stanno di giorno e non so per quale motivo. Non lo so, sinceramente ce l'hanno detto tante persone. Dice che potrebbe essere la sporchizia? Sì, sì. Però le farfalle non sono... Sono animali da sporco, da sporchizia, non se ne occupa. Lei pensa che possa essere come... che ci sono i gabbiani qua? Queste stanno qui fuori perché c'è caldo. Queste escono fuori quando è caldo, queste farfalline piccole. Non è buone se quelle. Troppe, tantissime. E abbiamo anche una fobica delle farfalle qui. Ah, proprio paura lei. E' la tua collega? Non lei, un'altra. Un'altra, ce ne sono tantissime. Anche al mare è pieno. L'invasione delle falene è un fenomeno che avverrebbe ogni 9-10 anni. È già accaduto in passato in altre zone d'Italia. Il motivo sarebbe riconducibile ad una periodica crescita demografica della popolazione delle falene, che potrebbe ricondursi al calo di uccelli, insettivori e predatori. Trovandosi in numero ben superiore alla norma, ha modificato anche il suo comportamento naturale. A causa del suo raffollamento nei loro nidi, come possono essere ad esempio le cavità degli alberi, non sanno dove trovare rifugio e vagano, abbandonando nel caso di Ostia e Fiumicino le Pinete e arrivando nel centro abitato. Segnalazioni in questo periodo stanno arrivando anche da tante altre località. Nei siti internet e fra gli online, gli avvistamenti si moltiplicano giorno dopo giorno, da Grosseto alla Dispoli. Sicuramente un fenomeno curioso, ma niente di paragonabile. Le invasioni descritte nei video caricati su YouTube da altre parti del mondo. è il caso per esempio delle farfalle giganti avvistate in giro per l'Europa nel 2017 o di quella notturna di Alba del 2018.